Questa è la mano del polpo Remigi Prima tocca il braccio di Jessica E poi scende fino a palparle il lato B Lei gli schiaffeggia la mano prensile per allontanare Remigi in questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato In questo programma, in questa azienda e per quanto mi riguarda in nessun luogo Per rispetto della persona coinvolta avevamo mantenuto riservo Ma ora che l'episodio è diventato pubblico Sento di avere un dovere di sincerità con voi Di esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà a Jessica Solidarietà mia, della direttrice, dell'azienda E il mio profondo dispiacere Mi fermo qui